Dorme come un angioletto. Linda? Oh, grazie. Il paziente a cui abbiamo messo le protesi avrebbe bisogno di informazioni sulla riabilitazione, l'alimentazione, eccetera. Ci pensi tu? Ma certo. Gli assistenti sociali stanno provando a trovare una famiglia per la nostra piccola. La nostra piccola? Questa settimana devi fare da tutor ai nuovi infermieri. Certo, lo so, me lo ricordo. Era per dire, magari volevi fare la babysitter. Scusi, posso darle un consiglio d'amica a dottor Sander? Sì, prego. Gli uomini che non mostrano apertamente i loro sentimenti non piacciono per niente alle donne, lo sapeva questo? Sul serio? Ci può scommettere? Infermiera Linda, questa neonata sta scombusolando tutto il reparto e se voi donne lasciaste perdere i vostri sentimentalismi per un po', sareste molto d'aiuto a noi uomini. Come si fa a non intenerirsi con una bimba così piccola? Ma tu invece sei un chirurgo. Per te il cuore è soltanto un muscolo che può funzionare bene oppure no, giusto? Questa povera bambina... È una bambina che sta rubando un sacco di tempo alle mie infermiere qualificate, sono stato chiaro? Tu di sentimenti non capisci un bel niente. È inutile.